Per quanto riguarda la strategia di oggi, come diceva giustamente Pietro, insomma io amo il Fuzzimib, è una strategia ribassista che entra in azione sotto il livello di supporto dei 26.900 punti, quindi a 26.875, per andare a prendere i 26.665-670 circa stop loss attorno a quest'area 27.080, perché questa operatività? Perché sono giorni che il mercato continua a lateralizzare su dei livelli importanti di prezzo, siamo nel range dei massimi di 27.3-27.000 punti e siamo sotto i 28.000 punti di pochissimo, quindi delle due l'una, o si crea una divergenza ribassista perché questo rimbalzo non ha goduto di molti volumi e quindi a fronte di quello che è la chiusura semestrale delle attività finanziarie potremmo purtroppo ricevere brutte sorprese perché la borsa altro non è che una sommatoria di aziende che devono necessariamente portare redditività agli investitori. Avendo i tassi in aumento è chiaro che la redditività proprio per formula econometrica diventa un po' più sottile. Quindi la mia visione è questa, non sono ancora completamente realzista, lo sarò forse a partire dall'autunno del 2024, voi sapete che a me piace sempre un po' fare queste scommesse a lungo termine e quindi non sono del tutto convinto che si possa godere ancora di ottimismo sul mercato.